Iacono finta al tiro il Benjo in punta, adesso Tandoi prova la penetrazione centrale numero 22 aspetta Colombo che la dà sotto ancora Benedetto Persico fa saltare il diretto avversario Iacono per Giocondo fa una cosa difficile Peppe Giocondo però ha una classe infinita di concludere ha avuto ragione lui perché la palla è finita Colombo con chilometri di spazio decidi di non tirare fa bene perché il Neurostep in avvicinamento appoggia il mio ribalzista della squadra per il momento è Peppe Giocondo naturalmente ci riferiamo a Milano 3 sono 7 i rimbalzi del numero 6 Biancorosso, Canestro intanto di Fabio Bonora minuti importanti per lui come sono quelli anche per Fabio Bonora che bene ha risposto a Cospugliese per le terghe dell'Eidi grande circolazione di palla di Milano 3 ecco Fabio Bonora ancora lui pazzesco Fabio Bonora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti